Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su due mercati, DAX e Fuzzimib. Cosa è successo oggi, durante la giornata? Di tutto, davvero di tutto. Innanzitutto, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto un bel gap down inatteso, perché mi aspettavo un superamento di questo massimo, per andare a chiudere con il sesto T-3 inverso il nostro T-inverso. E invece che cosa è successo? Cosa tra l'altro corretta, nel senso che, avendo avuto un quarto e un quinto T-3 già ribassisti, si poteva ipotizzare un sesto T-3 inverso ribassista, mentre invece con il sesto T-3 inverso è partito anche, e non qui, il secondo T-1 inverso. Quindi bella trappola. E che cosa abbiamo fatto? Quando c'è stata la fortissima discesa, che ha reso persino ribassista il secondo T-3 di indice, abbiamo aspettato una ripartenza, la violazione di uno swing, e ci siamo messi long. Cosa è successo? Siamo entrati qui, bella candela verde poderosa, discesa. Meraviglioso. Prima, anzi, non prima, prima, seconda, terza finta della giornata, quarta inversione della giornata, quinta inversione della giornata, sesta inversione della giornata, settima inversione della giornata, ottava inversione della giornata. Una roba incredibile, davvero incredibile, che si può gestire soltanto a livello di tranquillità, grazie alla ciclica evoluta per quanto riguarda me. Perché, sinceramente, non la conoscessi, non ci capirei nulla di quello che sta succedendo. Anche perché, prima ci sono state delle notizie valide, se non mi ricordo male, dalla Germania, ma questa roba qua, questa discesa qua, come la giustifichiamo? Come l'hanno giustificata? Ex post, peraltro, perché è accaduta la sera. La sera è iniziato a piombare giù rapidamente. Lo sapremo soltanto vivendo. Però, ritornando a noi, abbiamo avuto, quindi, un sesto t-3 inverso che ha dato via anche al secondo t-3 inverso senza andare in violazione, appunto, di questo massimo, cosa che invece mi aspettavo. E cosa abbiamo creato? Abbiamo creato anche un settimo t-3 inverso, potenzialmente chiusosi qui, visto il movimento molto strano fatto, che può aver dato vita alla chiusura del terzo t-3 e alla ripartenza del quarto t-3 che farai partire anche qua, nella realtà dei fatti, invece che qui, ma per ora mi riservo di lasciarlo qui. E, a questo punto, però, se sarà corretta questa visione, perché, attenzione, questa ipotesi, perché qui siamo a 34 barre, in realtà, e potrebbe essere ancora un t-7 inverso veramente tanto, tanto raccapricciante a livello di forma, ma tant'è, può fare quello che desidera. Se non fosse, appunto, un settimo t-3 inverso e qui fosse partito, come mi aspetto, ipotesi principali, l'ottavo t-3 inverso alle 14 e 15, avremo partenza di inverso e immediatamente vincolo a rialzo di indice, ovvero ribasso di inverso, che sta continuando alla giornata in fatti massimo. Perché ha fatto fatica in questa zona qua? Guardate, è tutto il giorno che prova a violare questa linea, quest'area. Ve lo faccio vedere qua. Oh, caspiterina, ci passano due medie mobili, quella verde del T settimanale e quella arancione del B settimanale. Però, però a buona notizia per chi è rimasto come mai long, anche in overnight, qui per ora temporaneamente abbiamo avuto una chiusura superiore alle due medie mobili. Questo implica forza, nonostante qui sia presente di nuovo un Island Reversal. Quindi attenzione, attenzione, tanta tanta attenzione. E nonostante, peraltro, qui si sia andati in, anche se non si vede, si sia ancora in Golden Cross. Passiamo al Fuzzimib. Per quanto riguarda il Fuzzimib, la situazione è lievemente differente, ovvero non c'è nessun Island Reversal di nessun tipo, perché qui è chiuso. Abbiamo avuto anche un'apertura con fortissima discesa, ma poi subito abbiamo rimbalzato e abbiamo continuato a salire per poi andare potenzialmente, anche in questo caso, a chiudere il terzo T-3, anche se qui è meno probabile. Sono 21 candele su 24, teoricamente minimo è 22, ok? Minime se proprio ci fosse una forte tendenza a ribasso, ma non abbiamo una forte tendenza a ribasso. Per cui è possibile che il terzo T-3 sia ancora in vita e che potenzialmente abbia chiuso anche qui, eh? Comunque con poco ribasso, ma comunque chiuso qui. Abbiamo avuto un temporaneo incrocio in Golden Cross, perché la rossa è salita lievemente sopra la blu, e che cosa è successo? Anche in questo caso, quinto T-3 ribassista, di inverso, sesto T-3 inverso che non viola questo massimo che fa da swing assoluto, e di nuovo discesa per far proseguire probabilmente da questo punto minimo anche il secondo T-3, scusate, secondo T-1 inverso, quindi secondo metaciclo settimanale. A questo punto, se qui, di nuovo siamo troppo brevi per aver fatto partire qui, un ottavo T-3 su questo massimo, un ottavo T-3 inverso, qui, di nuovo siamo troppo corti per averlo fatto partire, è possibile che quasi, ma quasi, sia partito da qui. In questo momento però i futures sono a rialzo, sull'Italia di 85 punti, ok, e sul DAX di 66, per cui, di nuovo, qui abbiamo avuto una chiusura simile al DAX in termini di tempo anche su Fuzzimib, che in realtà dura di più? Bella domanda. Anche per il terzo T-3 dovremmo vedere che cosa succederà domani per inquadrare meglio la faccenda, ma sapete che ormai da un po' di tempo seguiamo più il DAX che il Fuzzimib, per tanti svariati motivi, ok? Ultimissima cosa, guardiamo a livello di giornaliero dove siamo arrivati, ovvero abbiamo avuto un secondo T-1 che ha chiuso su questo minimo qua, e ha chiuso con 1, 2, 3, 4, 5 candele a ribasso che hanno aggiornato appunto i minimi, anche 6 nella realtà dei fatti, perché anche questa c'entra, per cui abbiamo chiuso con un T settimanale, tranquillamente anche un T più 3 per la ciclica evoluta. Per la ciclica di base no, per cui continuerei comunque a tenere d'occhio questo minimo. Nella realtà dei fatti, la mia aspettativa è di chiusura prima di tutto di inverso, quindi aggiornamento dei massi. Superamento anche in questo caso, esattamente come detto nei scorsi giorni, dei 20.222. Solo successivamente, o almeno superamento dei 20.00067, ok? Successivamente discesa, perché da qui può essere partito quello che vi dicevo, ovvero un raccordo. E in questo momento siamo arrivati a 7 barre di terzo T inverso. E se siamo arrivati a 7 barre di terzo T inverso, e non è partito altro, perché da questo massimo, dal massimo di questa candela, siamo andati, è vero fino a qua, ma non possiamo contarla come sesta barra, dobbiamo fermarci qua. E qui è continuato il nostro terzo T inverso. A questo punto è molto probabile che si vada appunto a superare questo massimo. E che con questo si vada eventualmente anche a chiudere il... un T più 2 inverso a... mensile. Però è arrivato oltre le 24 barre, quindi oltre il minimo, e che potrebbe appunto portarci su già domani, ed eventualmente, se fosse necessario, anche dopodomani. Poi, discesa. Questo è il piano principale. Tra l'altro vi faccio notare una cosa divertente. Massimo a 20.101. Massimo a 20.067, quindi ribassista. No, qua non c'è. C'è sul DAX, c'è una divergenza che comunque appunto è di un certo tipo. Ma ve la lascio vedere poi tranquillamente più avanti. Vi ringrazio per l'ascolto. Come al solito, se avete bisogno di appunti gratuiti con cui partire, contattatemi alla mail che ogni tanto lascio sotto le analisi, ovvero info come informazione, chiocciola, financialarmor.eu e decidete se volete fare da carta da parati oppure se volete renderli indipendenti nel trading. D'accordo? Buona serata a tutti!